Ciao, ecco come preparare un ottimo purè di patate alla carbonara, una sorta di versione svizzera degli spaghetti alla carbonara, con purè di patate anziché spaghetti. Gli ingredienti necessari sono Una confezione di preparato per purè per due persone e ingredienti necessari secondo le istruzioni 2 cucchiai di creme fresh 0,5 decilitri di panna semigrassa 2 cucchiai di acqua 120 grammi di prosciutto di tacchino 200 grammi di pisellini Una manciata di erba cipollina Uno spicchio d'aglio Una presa di sale Una presa di pepe